Il Signore disse a Satana, ebbene, Egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Quello che colpiva il mio cuore è questo, che il Signore diceva a Satana, rispetta la sua vita. Noi sappiamo la grande prova che Giobbe ha dovuto subire, nella sua casa, prima nella sua famiglia, nei suoi figli, in ogni cosa, tutti i suoi beni, ogni cosa è stata messa alla prova, ma alla fine è stata messa alla prova la sua salute, perché quando veniamo provati nella salute è lì che possiamo crollare, è lì che possiamo venire meno. Ma il Signore gli dì il permesso di provarlo, però gli disse rispetta la sua vita. E questa mattina, forse anche tu ti puoi trovare come Giobbe, attraversando molte prove, molte difficoltà, e pensi che il nemico può vingere su di te, può annenteare e farti finito. Ma abbiamo il Signore con noi, perché il Signore ha tutto sotto controllo. E questa mattina la tua e la mia vita è nelle mani del Signore. Sembra che tutto vada alla rovina, sembra che tutto si sta distruggendo intorno a te, nella tua vita, intorno, in ogni cosa. Sembra che tutto è finito e anche nella tua mente ci sono quei pensieri, oramai è tutto finito. Anche la mia vita non avrà più niente, non avrà più bene, ma noi sappiamo la fine che il Signore ha riservato a Giobbe. Gli ha dato il di più, tutto ciò che Satana gli ha rubato, perché lui è restato fedele nella prova e nella difficoltà. Ha convidato in quel Dio che le ha sostenuto in tanti anni. Lui si è ricordato di quel Dio che gli dava tanto ogni giorno che la sua presenza era con lui. E questo Dio che lui conosceva, in questo Dio lui confidava, perché diceva alla fine questa mia carne vedrà il Salvatore e lo vedrà, lo vedrò a me favorevole. E questa mattina anche tu puoi trovarti in questa grande difficoltà, perché quando ci troviamo in grande difficoltà, la parola del Signore ci sostiene. Lui viene, viene con la sua parola e ti dice proprio questo, che lui è con te, che lui non si è dimenticato, che lui vede il tuo problema e che Satana non può andare oltre la tua difficoltà. Forse tu pensi che questa volta il nemico potrà averla vinta su di te, può portarti via anche la tua vita, ma il Signore ti dice che ha detto a Satana soltanto rispetta la sua vita, perciò non potrà andare oltre di quello che stai attraversando, perché lì Dio è fedele e ancora a me il Signore riporta alla mente, mi ha riportato quante volte ti ho tirato fuori, quante volte io sono intervenuto in tuo favore, quante vittorie hai avuto nella tua vita, ma non sono finite, perché ce ne sono ancora delle grandi davanti a te, ma quello che richiede il Signore è fedeltà nella prova, restare fermi, fedeli, combattendo con la preghiera, anche quando tutto è contro, tutti possono essere contro di te, ma tu stai lì a lottare, a cercare la presenza del Signore, la forza del Signore, sapendo che Egli non ti lascia e non ti abbandona, sapendo che in tutti questi anni lì Dio è stato con te e ancora oggi è con te, lo sarà ancora in questi giorni futuri, forse la prova può essere ancora più dura, puoi attraversare ancora tempeste più forti, ma lì Dio ti ha promesso che ti tirerà fuori e tu potrai cantare l'inno di vittoria, confidiamo ancora nel Signore in questa mattina, perché non abbiamo creduto in un uomo che ci volta le spalle, ma abbiamo creduto in un Dio grande e potente, anche Paolo, San Paolo diceva, io sono stato provato al di là delle mie forze, ma lì Dio, lì Dio mio mi ha liberato, perché pensava, diceva, pensava anche la vita, mi veniva meno, pensavamo di non farcela, ma il Signore ci è venuto incontro, ci ha liberato e ci ha dato la vittoria e ancora questa mattina può essere che tu pensi che non ce la fai, non ce la fai, perché troppe, troppe sono le prove nella tua casa, nella tua famiglia, in tuoi figli, nella tua vita, nel tuo corpo e nel tuo fisico, ma Dio è fedele, combatti, combatti questa battaglia, che per certo la vencerai, perché non sarai tu, ma sarà lì Dio grande e potente che ti darà la vittoria, Dio ti benedica.